Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tartufini salati. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono formaggio tipo Philadelphia, salmone affumicato tagliato a pezzetti, pepe, granella di pistacchi, granella di nocciole, paprika e semi di papavero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il formaggio ed il pepe ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Aggiungere il salmone ed azionare il bimbi per 30 secondi anti-orario velocità 3. Trasferire in una ciotola e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il composto formare i tartufini. salati nella granella di nocciole e posizionarli in dei pirottini di carta. Proseguire così per il resto del composto e riporre in frigo per almeno 30 minuti prima di servire. Tartufini salati. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.